Questo video sono anziano otto e non ce la faccio, non ho sciorchezza. Uno, due, subito. Non sull'osso che fate male, sulla coscia fa male, ma ci abituiamo. Allora, rivediamo. Uno, carico, due. Sono sempre pronto, ecco. Quando scalciamo e pariamo, rispondo qualcuno che fa questo. No, questo, perché qua siamo fuori. Combattimento, è sempre piazzato. Io posso subito dentro, posso uscire, ma sono sempre dentro. Allora, uno, carico, due. Rivediamo fuori, eh. Vieni, subito. Coltisco, eh. Ora questa poi facciamo un tecnico modulo. Vieni, provate questo in modo che sciogliete bene il combattimento. Allora, decidete voi l'impatto, non facciamo problemi che inutili. Anche solo toccare, contate il movimento. Chiedole per vedere. Decidete voi l'impatto, eh. Ragazzi, decidete voi l'impatto. Controllo del piede. Silenzio. Silenzio. Non fatevi male, ragazzi, eh. Il piccolo. E? E? Grazie. Grazie. Grazie.